ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco spazzolino a cosa serve spazzolino a un parafarmaco appartenente alla categoria degli spazzolini da denti scovolini interdentali e accessori e commercializzato in italia dall'azienda gruppo stomigen srl informazioni commerciali titolare gruppo stomigen srl concessionario gruppo stomigen srl categoria di appartenenza spazzolini da denti scovolini interdentali e accessori confezioni spazzolino spazzolino extra morbido spazzolino spazzolino morbido spazzolino spazzolino mp 22 spazzolino spazzolino mp 41 medio spazzolino spazzolino tasso fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato